Il cervello umano è l'oggetto più complesso dell'universo. Consideriamo chi soffre di personalità multipla inferiore. E se non ci fosse limite a ciò che può diventare? Scusi, credo sia salito sulla macchina sbagliata. Adesso il mondo capirà. Lui ha fatto cose terribili alla gente, farà cose terribili a voi. Non ho mai visto un caso del genere. 23 personalità abitano nel corpo di Kevin. Mi chiamo Edwig e porto i calzini rossi. Quanti anni hai? 9. Il cervello umano è l'oggetto più complesso dell'universo. Che succederà quando libererà il potenziale del suo cervello? Non c'è limite a quello che può diventare. Adesso il mondo capirà. La bestia è vera. Slip al cinema.